Alt! Potrò mai rilassarmi un attimo? Sull'attenti recluta! Recluta? Silenzio, quelle domande le faccio io, chiaro? Sì, sì, chiarissimo, trasparente, direi. Ah, ma abbiamo un comico tra noi. Ma guardi, io solamente rispondo... Silenzio, qui rispondo solo io! Io ho capito, ma parla solo lei così, cosa devo fare io? Ascoltare e stare religioso, silenzio! Ah, va bene. Io sono il sergente Swim, e... Swim! Un po' scontato, ma molto carico. Dette battute! O giuro che finisce annegato in meno di un attimo! Ok, ok, scusi. Comincerò ad elencarti le regole ferree di questo spazio acquatico. Beh, spazio acquatico, è una piscina di tela. Non è che si attacco uno scivolo e diventa Ondaland, eh? Giù di quel becco, ascolta! Signor sì, signor Swat. E Swim ignorante! Sì, scusi, signor Swat. Vabbè, lasciamo perdere. Regola numero uno. In piscina si entra solo con la cuffia. Chietato a tuffarsi. Entrare con qualsiasi tipo di calzatura. Introdurre oggetti esterni di ogni genere. Vietato a mangiare all'interno della vasca. Vietato a esistere. Regola numero 157. Vietato a tornire. Abbiamo finito? Sì, prego, entra pure, soldato. Oh, grazie. Vietato a entrare senza fare la doccia. No, guarda, la doccia no. Basta, me ne vado. No, torna qui immediatamente, soldato. È un ordine. Soldato, sold... Finalmente ora mi posso rilassare in santa pace. Non lo sopportavo più. No, guarda, la doccia. 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 Grazie.